La notizia era nell'aria da alcuni giorni ma solo ora è diventata ufficiale. La Regione Campania ha inoltrato alle Fonderie Pisano di Salerno il provvedimento di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale, la cosiddetta AIA, che determina l'interruzione dell'attività produttiva e consente esclusivamente le indispensabili operazioni di messa in sicurezza degli impianti dello stabilimento di Fratte. Secondo la proprietà dell'azienda, la base della revoca, la conclusione è con parere non favorevole del procedimento in merito al progetto di ammodernamento dell'impianto produttivo. Le tesi dell'autorità competenti, si legge in una nota dell'azienda, è che in seguito al parere negativo sulla via, valutazione integrata, parere pregiudizievole per i nuovi impianti e per gli incrementi di quelli esistenti, si è dovuto procedere all'archiviazione del riesame del progetto di miglioramento delle performance ambientali e al ritiro dell'autorizzazione ottenuta nel 2012, sebbene, aggiunge Mario Pisano, presidente delle Fonderie, siano sempre stati rispettati i valori stabiliti dalla normativa europea e nazionale. La risposta, aggiunge l'imprenditore, è giunta solo 18 mesi dopo aver presentato un progetto di miglioramento dell'impatto ambientale che non si è potuto realizzare, si legge sempre nella nota, in quanto non autorizzato, provocando una serie di osservazioni da parte degli organi di controllo. In pratica, secondo Mario Pisano, è stata imposta una procedura non dovuta di fronte alla presentazione di un progetto di miglioramento elaborato da professionisti apprezzati a livello nazionale ed europeo, finalizzato alla permanenza provvisoria nel sito di Fratte, questo in attesa della nuova localizzazione di un impianto produttivo all'avanguardia tecnologicamente, con livelli di impatto ambientale molto a di sotto di quanto previsto dalle normative attuali italiane ed europee. Ciò nonostante, si legge sempre nella nota, anche in sede di confronto sulla valutazione di impatto ambientale, valutazione integrata, è stata offerta la massima disponibilità, ribadisce Pisano, per ogni intervento tecnico ritenuto opportuno dalle autorità competenti, come dimostrano le note documentali dell'azienda. Alle fonderie è stato notificato prima il parere negativo all'istanza Via V e successivamente il decreto di revoca dell'AIA. Secondo Pisano, inoltre, è paradossale che mentre l'azienda si apprestava a partecipare a un bando pubblico riferito al territorio regionale per gli insediamenti in aree industriali, si ritrova ora con l'impossibilità di continuare l'attività. L'azienda ha annunciato di voler rispettare le decisioni regionali e per questo motivo ha già spento i forni, iniziando a mettere in sicurezza gli impianti, con il rammarico, conclude il comunicato, che non produrranno più opportunità di lavoro nel territorio. Come prevede la normativa vigente, comunque, la proprietà valuterà con attenzione un possibile ricorso al TAR, da verificare con i sindacati e anche gli ammortizzatori sociali ai quali ricorrere.